Partita la prova della batteria numero 4, Ivaro Avaloni, Serena, Silva, Lazzarini, Donatia, Occherovini, stavo dicendo, incredibili intenti per i venti che stiamo arrivando, perché si discostano tra di loro dalla prima batteria, per le che abbiamo visto rispettare, sono di qualche decimo, tutti sono sui 37 secondi, 37,53, 37,22, 37,33, quindi davvero pochissima la differenza tra una batteria e l'alba, come dicono i disputati queste prove, siamo redattati con così, vediamo invece il tempo di intervento per questa, questa batteria invece va a scontire un po' quello che ho appena detto, perché questa è la prima batteria che scende al di sotto dei 37.